Aveva suscitato scalpore e sdegno l'odioso furto a Natale ai danni della bocciofila la combattente. I ladri senza cuore il 21 di dicembre oltre alle attrezzature rubarono tutto il pesce del valore di oltre 300 euro destinato il giorno dopo al pranzo di beneficenza per i ragazzi disabili del centro diurno di San Lazzaro offerto dall'associazione vongolai fanese. Dopo una lunga ed articolata indagine gli uomini del commissariato di Fano coordinati dal dirigente Stefano Seretti hanno identificato il ricettatore della merce che conservava ancora in un congelatore il pesce rubato ai danni dei ragazzi. Si tratta di un uomo di 32 anni di origini sarde già con precedenti e ben noto alle forze dell'ordine. Nella sua abitazione nel quartiere del Poderino la polizia oltre alla refurtiva della combattente ha rinvenuto altra merce rubata in appartamenti esercizi commerciali ed auto riconducibili a furti commessi nell'autunno scorso tra settembre e dicembre del 2018 nei quartieri di Sant'Orso, Vallato, Trave e Flaminio. A lui gli uomini del commissariato sono arrivati partendo proprio dall'arresto di uno dei due esecutori materiali del furto alla combattente bloccato prontamente dagli agenti della volante intervenuta sul posto mentre tentava di darsi alla fuga in bicicletta ed arrestato appunto in flagranza di reato. Da lì l'indagine che ne è scaturita ha portato dritto dritto all'appartamento del 32enne dove egli conservava gran parte della merce rubata e che è stato denunciato per ricettazione e furto. Ora sono in corso da parte della polizia di Fano altri accertamenti per risarire alla provenienza dei restanti beni rinvenuti, occhiali, anelli, orologi e altre attrezzature di carattere sportivo. Pertanto coloro che hanno subito un furto nelle zone e nelle date indicate e che riconoscono nelle immagini i propri beni possono contattare il commissariato di Fano per il riconoscimento del caso.